La crisi c'è e le aziende anche a livello nazionale sono in recessione. La problematica del caroenergia e materiali condiziona inevitabilmente anche l'Abruzzo, ma si deve continuare ad investire sul settore dell'automotive. Proprio questo è stato uno dei temi affrontati nel momento di confronto, voluto dall'UGL, sul tema fabbrica e territorio alla presenza del segretario nazionale del sindacato. Tutta l'Italia, non soltanto l'Abruzzo, non soltanto questo territorio, stanno subendo un periodo recessivo. Le aziende che sono costrette a pagare l'energia più di quanto la pagassero due anni fa, ed eravamo già in un periodo di crisi a causa della pandemia, ovviamente ha gravato sulla possibilità di produrre e produrre in maniera conveniente, in maniera profittevole. Quindi è un momento particolare. Siamo convinti però che una ripresa è possibile, ed è possibile soltanto se attiviamo i confronti come questo che facciamo oggi, qui con il territorio, parlando di fabbrica e territorio, poi sui tavoli ministeriali dove siamo presenti a nome dei lavoratori dell'UGL, e a nome di tutti quanti i lavoratori del settore industriale. Noi chiediamo alla politica che ci sia un intervento su un chiaro destino industriale di questo Paese. Un intervento ovviamente, ed è stato fatto da questo Governo, sul contenimento del costo dell'energia. Chiediamo soprattutto che le nostre produzioni specifiche, particolari, strategiche, rimangano su questi territori. E mi riferisco a quello che sta, per esempio, a valle dell'automotive, che è tutta quanta la filiera dell'acciaio. Quindi se queste sono le premesse, se il Governo centrale insieme ai territori riescono a ragionare e i sindacati fanno la loro parte e facilitano il dialogo, credo che nel breve tempo di un anno, due anni, si possa invertire la tendenza. Il nostro è un Paese produttivo e vogliamo che continui ad essere tale. Al tavolo era presente anche la Regione Abruzzo con l'assessore al lavoro e Pietro Quaresimale. Il momento è quello che è, ma la Regione ha spiegato, sta mettendo in campo tanti strumenti. Sicuramente il mercato del lavoro è in forte evoluzione, ha subito diversi pregiudizi a seguito della pandemia, della crisi energetica, della guerra, quindi sicuramente sta risentendo di questi eventi. L'iniziativa di oggi, una sinergia tra le istituzioni e le parti sociali, è fondamentale per vedere quali sono le misure da adottare. Come Regione stiamo mettendo in campo diverse misure, a partire da Goll, Garanzia, Coabita, Lavoratore. Si tratta di formare determinati profili per poi ricollocarli. Io girando le aziende che sono presenti sul territorio abruzzese, molti mi dicono che hanno esigenza di manovalanza, ma manco di profili, quindi spetta a noi informarli e qualificarli. Un ruolo fondamentale lo deve assumere il Centro per l'impiego che stiamo potenziando appunto per fare quel matching tra domande e offerte di lavoro. E poi la sicurezza. Da poco abbiamo istituito insieme a una collega alla Sanità un tavolo per cercare di fronteggiare quest'ulteriore emergenza perché sentiamo spesso parlare di morti bianche e quindi vogliamo adottare ogni misura per cercare di prevenire queste cose brutte. Per di più abbiamo fatto un protocollo con l'ordine dei consulenti del lavoro per l'asseverazione dei contratti, appunto per cercare di far sì che il lavoratore possa essere tutelato da ogni punto di vista. Ritengo che c'è tanto da fare, ma queste giornate sicuramente aiutano a risolvere tante problematiche nel mondo del lavoro.